ciao ragazze nuovo video avevo proprio voglia di fare questo haul perché era un po' che non li facevo e quindi ora vi mostrerò quelli che sono i capi che ho acquistato per l'inizio dell'estate ormai manca pochissimo tempo e partiamo subito con la prima cosa che ho acquistato a prima vista sembrerebbe un vestitino in realtà è una tuta un vestito gonna pantalone chiamiamolo così praticamente ha lo scollo a v come vedete dietro sulla schiena è aperto in questo modo col bottoncino è stretto in vita ha la manica un po' a pipistrello c'è questa bellissima stampa floreale su base nera che mi piace tantissimo secondo me mi dona insomma quando l'ho provato da zaro ho detto ok me lo vedo bene e quindi l'ho acquistato mi piace tanto di solito non amo indossare vestiti lunghi perché comunque non sono altissima e non mi vedo ecco mi sento mi sento bassa quando indosso i vestiti lunghi invece questo secondo me va a esaltare non lo so la mia immagine quindi un acquisto di cui sono davvero contenta acquistato recentemente sarà settimana scorsa sì ed è della linea zara basic se ce la faccio a parlare e l'ho pagato 49 95 quindi 50 euro si ha secondo me è un bel vestitino perfetto per il cocktail ma anche da giorno per fare un giro in città io questo lo metterei con un sandalo alto però insomma per le più brave si può optare anche per una scarpa bassa un sandalo ecco questo non lo metterei con le sneakers opinione personale proprio per come cade il pantalone e soprattutto a che punto mi arriva non lo so non mi ce lo vedo poi magari cambio idea è probabile basta trovare la sneaker giusta mi piacciono anche queste pens qui davanti mi piace mi piace come cade mi piace tutto di questo vestitino l'avevo adocchiato inizialmente sul sito poi ero andata in centro per fare delle commissioni ho detto vediamo se lo trovo e l'ho trovato e quindi l'ho provato e per fortuna insomma in una volta sola sono riuscita a completare un acquisto cosa veramente rara per me perché di solito sono abbastanza indecisa poi magari mi riprovo le cose quindi a maggior ragione acquisto azzeccato prossima cosa vediamo dove posso metterlo lanciamolo lì prossima cosa che ho acquistato sempre da zara è questa leziosa camicciola che mi avete già visto anche su instagram mi sembra che ve l'ho mostrata due volte su instagram allora davanti a questa parte centrale tutta effetto pizzo effetto è un pizzo diciamo fatto comunque non a mano ovviamente però fa la sua bella scena c'è il dettaglio del pizzo anche qui nella manichina e qua sotto c'è questa parte a volan molto carina sempre in pizzo quindi mi piace questo contrasto tra il coprente questa parte di tessuto che è assolutamente coprente quest'altra parte di tessuto che fa l'effetto vedo non vedo nella parte frontale è stata messo dell'altro tessuto appena sotto il pizzo io pensavo che si vedesse il reggiseno invece no cosa insomma di cui sono contenta perché non sono proprio osè come come persona mi piace l'effetto vedo non vedo ma troppo non mi piace ho visto che ad azzara c'è anche la versione in bianco dovrei provarla però al momento mi attirava solo quella nera il prezzo non lo ricordo comunque sapete che i prezzi di zara sono pressa poco gli stessi di solito 29 39 49 insomma ora non mi ricordo esattamente il prezzo credo che sia molto versatile l'ho indossata anche al salone del mobile perché l'avevo comprata prima a tenerife e però in italia c'è fuori adesso quindi ho detto gliela faccio vedere alle ragazze anche perché su instagram mi è piaciuta tanto e poi settimana scorsa c'era da zara ok prossima cosa che ho acquistato questa volta da stradivarius questa leziosa camicciola con le rush questa manica così molto romantica adesso vanno di moda le vediamo ovunque andavano di moda anche l'anno scorso e se non questa esplosione ecco delle rush mi piacciono tantissimo non mi dispiace vi dirò la verità anche questo tessuto che sicuramente è sintetico dato che stradivarius vende comunque capi low cost anche questo lo comprai a tenerife ecco vi faccio vedere come cade quindi va giù dritta rimane morbida è bellissima da infilare dentro un pantalone o dentro una gonna ci ho fatto anche un outfit con questa mi piace anche il punto di rosa non mi muore in faccia perché io devo stare un po attenta con i vegiolini con i nude soprattutto quando non sono abbronzata l'ho pagata veramente una bischerata come si dice qui a firenze mi sembra che la pagai 10 15 euro forse 15 euro il tessuto non è per niente male sembra un po sete proprio morbido comunque vabbè grande grande acquisto e secondo me questo sarà un capo molto molto versatile che sfrutterò tantissimo quest'estate e lanciamo via anche lei non mi sta cadendo niente a terra oggi strano prossima cosa passiamo a una gonna che ho comprato sempre settimana scorsa a firenze in un negozietto che si chiama miss trench ormai insomma lo conoscerete insomma l'ho pagato tante volte anche su instagram ci sono delle ragazze molto carine e in più hanno delle cose particolari fuori dall'usuale e più uniche diciamo così ho preso questa gonna anni 50 in cotone ha questa stampa con le righine e con questi uccelli che mi sembrano dei ora non mi ricordo no non sono fenicotteri comunque sono parenti dei fenicotteri credo comunque ci sono questi uccelli carinissimi azzurri quindi la gonna è tutta sui toni dell'azzurro davanti ci sono questi bottoncini che arrivano vedete fino alla fine quindi la gonna si può tenere anche con due bottoncini aperta sotto quindi fare intravedere un po la gamba veste molto bene non mi va a evidenziare i fianchi io sto sempre molto attenta perché non ho i fianchi larghissimi ma neanche stretti quindi a volte con questo tipo di gonne bisogna stare un po' attente e sempre provarle infatti io non amo molto provare le cose però ultimamente mi sto proprio facendo forza perché soprattutto su alcuni capi è un must provare insomma le cose per azzeccare l'acquisto e non l'ho pagata neanche tanto mi sembra sui 39 se non ricordo male e ne sono stra felice non vedo l'ora di farvi un outfit con questa quindi adesso me lo sto un po' studiando e poi magari sul blog vedrete fuori un nuovo outfit altra gonna patrizia pepe guardate che amore è questa gonna sempre ispirazione anni 50 sono gonne midi gonne a ruota questa mi sembra più a ruota dell'altra anche questa è a righine abbastanza simile a livello di concept all'altra che ho preso da miss trench ma l'altra secondo me è più casual te la puoi giostrare meglio questa sia per il tessuto che per la stampa mi sembra un po' più seriosa non so come spiegarvi comunque anche con questa ci si può veramente sbizzarrire anche di questa non vedo l'ora di fare un outfit adesso anche qui dovrò iniziare a studiarmi il look migliore stanno benissimo ovviamente anche con le sneakers queste gonne però adesso vedo un attimo credo che indosserò dei sandali col tacco questa l'ho pagata molto di più perché qui stiamo parlando di patrizia pepe che comunque è un'altra tipologia di marchio e l'ho pagata 178 sì 178 e ne sono felice sono felice di questo acquisto perché è bellissima altro acquisto che ho fatto da zara è questa camicia è una camicia oversize come vedete anche questa ha la manica un po' a pipistrello vedete quindi fa l'effetto un po' spalle a gruccia per chi ha già le spalle un po' a gruccia come me saprà che questo tipologia di capo va provato insomma data la tipologia e la leggerezza del tessuto credo che questa camicia vesta bene anche le ragazze che hanno le spalle un po' stondate come le mie quindi non squadrate e appunto come vi dicevo perché il tessuto è molto morbido quindi va ad avvolgere il corpo in maniera molto graziosa ora io mi alzerò ve la faccio vedere meglio vedete che dettaglio che anche qui nelle maniche ve la potete giostrare come volete potete anche lasciare la manica giù però io la preferisco con la manica rigirata così come ce l'avevo prima mi piacciono appunto anche queste striscioline di tessuto queste applicazioni che rendono la camicia più più interessante e niente anche questa l'ho pagata davvero una sciocchezza credo che questo punto di azzurro stia bene su di me o comunque sulle ragazze che hanno la mia stessa carnagione e i miei stessi capelli ma sta benissimo anche ad altre tipologie di carnagione per carità sono sicura che quando sarò abbronzata mi starà ancora meglio e niente io direi che i miei ultimi acquisti sono finiti grazie per l'attenzione grazie perché siete sempre così carine mi commentate mi seguite come avrete notato ho ripreso a fare i video in maniera costante quindi ogni mercoledì o ogni domenica troverete sul mio canale un nuovo video se non mi mangio troppo le parole e a questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao